Col passare degli anni i miei capelli si erano diradati e indeboliti. Poi mi hanno consigliato Bionique Defense KS. L'ho usato con costanza e tutti hanno notato la differenza. I miei capelli sono davvero più folpi, corpuosi, pieni di forza. Bionique Defense KS. Ho ritrovato i capelli dei miei 20 anni.